Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi giudichiamo i libri dalla loro copertina che è una cosa che non si fa ma io posso fare, cioè in realtà lo potete fare tutti però insomma penso che abbiate un po' capito che oltre a lavorare come fotografa io faccio l'art director nella vita ovvero il mio lavoro consiste soprattutto nel dire che le cose fatte dagli altri fanno schifo è molto divertente, no a parte gli scherzi con questo video capirete proprio che la mia serietà professionale è tutta apparenza detto ciò non è vero, questo lo dico per i miei datori di lavoro però a parte gli scherzi insomma visto che io mi occupo proprio di tutti gli aspetti visivi, estetici, insomma tutta la coerenza grafica l'ideazione anche dell'impostazione grafica, fotografica e non solo, comunque tutta la parte visiva di determinati progetti insomma perché non parlarvi delle copertine che sono quelle che noi vediamo tutti i giorni io ho dei pareri molto forti sulle copertine in generale e per questo non guarderò assolutamente delle copertine italiane perché non credo sia necessario e perché sono gentile e quindi in questo video io mi metterò a guardare e a giudicare ovviamente male gli outfit del Coacella, no scherzo scusatemi, mi metterò a giudicare male le copertine dei libri più attesi che usciranno nei prossimi 6-7 mesi non in Italia ma all'estero quindi quei titoli da tenere d'occhio che io sto tenendo d'occhio o in generale che secondo me meritano un po' di attenzione vi faccio un po' una premessa su cose che a me piacciono e cose che non mi piacciono in generale io devo dire che ormai negli ultimi anni più guardo le copertine più già individuo quei libri a cui io darò tre stelline ancora più facile che ne dia due perché proprio hanno un'impostazione così povertà a volte proprio banale, uso scorretto dei font, uso proprio anche di font brutti, vecchi, beceri quasi da fanfiction e illustrazioni che sanno di così vecchio stantio ammuffito che mi danno quasi fastidio cioè non è possibile che ogni epoca, ecco diciamo ogni anno, ogni 2, 3, 4, 5 anni hanno davvero dei gusti che richiamano al periodo in cui si è, no? cioè c'è stato l'epoca del super flat design, qualche tempo fa, adesso si ritorna a cose meno flat ma comunque molto pulite, molto più ordinate, anni fa si sparava a destra e manca, basta che mettevi tutto a livello anche di illustrazione c'era un gusto molto più, che io definisco kitsch perché infatti pensate alle illustrazioni che ci sono in tutti i libri Romance Harmony quelle sono tendenzialmente quelle che spesso si ripropongono e io proprio appena le vedo, cioè sono certa che sarà un libro che non mi piace poi a volte vengo fregata, a volte il libro è bellissimo, altre volte il libro fa schifo però spesso quando c'è anche una cura dietro un certo progetto a livello grafico c'è anche una corrispettiva cura nell'editing perché vuol dire che l'editore ha investito in un certo senso poi magari non è sempre così, ripeto, il mondo editoriale è molto fluttuante, molto vario dal mio punto di vista una buona cura nella grafica un'attualizzazione anche dell'illustrazione, dell'uso dei font dell'impostazione grafica in generale rispecchia molto anche la cura che viene data a un certo libro copertina brutta di solito non attira è una roba logica, no, questo non mi dispiacciono soprattutto le impostazioni grafiche a livello di copertine sono le mie preferite, sono proprio quelle che mi piacciono di più dove ci sono tantissimi elementi che si intrecciano l'uso del font fuso con la grafica non amo particolarmente le copertine illustrate o almeno dove l'illustrazione è un'illustrazione digitale molto pesante a scapito del legame con il font o dell'emersione del font però dipende sempre dal caso alcune volte è bellissima e magnifica, altre volte fa schifo o altre volte magari l'illustrazione è così bella che alzi le mani e dici ok hai ragione e poi mi piacciono in rarissimi casi le copertine fotografiche lo dico a scapito di tutte le foto che potrei vendere per le copertine nel senso che spesso vengono acquistate da banca dati non vengono comprate dall'artista oppure non c'è proprio una richiesta non c'è una correlazione tra ciò che c'è nella foto e ciò che invece si vuole esprimere con la copertina a me non dispiacciono in linea generale le copertine fotografiche che sono sempre più rare tranne ad esempio nella letteratura contemporanea nella narrativa contemporanea ma anche ad esempio nel contemporaria nello young adult che si occupa di temi contemporanei in quelle due c'è sempre un po' un'interazione tra una foto però è raro nel fantasy chiaramente si privilegia altro ma è giusto anche così perché bisogna tendere a un immaginario diverso ma ora bando alle ciance direi di cominciare poi la Tiffany del futuro farà apparire da una dei due lati e adesso decido dove mettermi tutte le copertine così potremo commentarle insieme ma direi di iniziare adesso però le devo avere anche sott'occhio quindi sembrerò strana il primo titolo che vado ad analizzare è Again Pezza di Christine Reccio che magari a molti di voi non dice nulla Christine Reccio è una delle più grosse booktuber in America che ha appena scritto un libro io non so nulla di questo libro non mi interessa ma andiamo a vedere la copertina questa pagina divisa in due dove da un lato c'è solo una bozza e dall'altro c'è un qualcosa di più definito colorato che si muove in avanti rende molto l'idea del Again but better cioè come se dovesse sottolinearlo 30 volte non mi dispiace vi devo dire come copertina perché secondo me è una perfetta copertina per un contemporary novel young adult penso che il tema sarà quello perché non credo che possa scrivere altro non mi dispiace il font è molto basic penso no non è un Gotham ma siamo lì e quindi però la disposizione degli elementi è chiara si legge bene c'è comunque un concept dietro che riprende quello che sarà il concept del libro non mi dispiace cioè è giusta la trovo molto corretta e neanche così approssimativa sappiamo che possono fare degli errori veri quelli che creano le copertine la cosa che non mi fa impazzire di tutta l'impostazione è proprio l'illustrazione invece la trovo molto molto povera molto basic chiaramente è un recalco dinamico di un'illustrazione di una roba presa da qualche parte fatta approssimativamente in illustrator tanto sarebbe andata bene comunque bruttina però secondo me nel complesso si inserisce bene in questa cosa qui tanto comunque le fan di Christine la compreranno lo stesso vado avanti e a maggio esce anche With the Fire on High di Elisabeth Afevedo io non ho dei pareri oggettivi quando si tratta dell'Afevedo sapete che è stato uno dei primi libri che ho letto a gennaio e l'ho amato perché lei è bravissima ma noi siamo qui per giudicare la copertina e in questo caso il mio problema è che io so cosa c'è scritto dentro comunque se io la dovessi prendere da un'ottica esterna vediamo questa ragazza chiaramente afroamericana in primo piano delle arance che frullano in mezzo boh sparse così dei baccelli di vaniglia e della lavanda boh mi piace però invece molto la gestione del font perché comunque non mi dispiace a me comunque i font quando sono inseriti in un'illustrazione e sono dei font ovviamente di stampo manuale non di stampo typing diciamo quindi handwritten mi piacciono molto quando sono proprio contestualizzati all'interno dell'illustrazione in questo caso mi piace secondo me è un po' fine a se stesso il fatto di buttare lì tutta sta frutta verdura che non soprattutto perché racconta di una ragazza che cucina e in questo caso sembra quasi che faccia la fruttarola al mercato cioè poi qua mi fa molto ridere perché si vede proprio che il grafico quando la stava impostando non ne aveva voglia perché ci sono gli stessi elementi ripetuti ma specchiati ritagliati in modo che non si capiscano che sono proprio gli stessi cioè se ci guardate bene però cioè proprio qua sforzarsi un minimo e fare cinque figurine di più cinque illustrazioni in più no non ne avevamo voglia anche perché avremmo dovuto mettere almeno delle verdure cioè non lo so mettete una zucchina eh secondo me rende comunque bene l'idea anche a livello di colore è molto caldo c'è questa ragazza che è bellissima in copertina non lo so alcune cose mi piacciono molto altre secondo me sono un'occasione mancata a maggio esce anche Aurora Rising che tutti diranno Aurora Rising di Jay Kristoff e della Amy Kaufman è una nuova serie che hanno scritto insieme io l'ho appena finito ve ne parlerò presto nel wrap up ma parliamo della copertina perché noi siamo qui per questo oggi l'illustrazione così a primo colpo d'occhio mi sembra Charlie Bowater ma potrei sbagliarmi io non sono un amante dovevo dirlo anche in quella di prima in realtà un amante dei personaggi in copertina mi piacciono più altri tipi di impostazione ma a volte possono comunque rendere benissimo i capelli nel piercing vabbè bene sempre meglio sempre qualità qua comunque anche in questo caso io so già cosa c'è scritto dentro quindi alcune cose mi sono più chiare ma io mi rifarò solo e unicamente a ciò che vedo in questo caso sul lato sinistro noi vediamo Aurora Auri ripeto che ho appena detto di non parlare del contenuto comunque c'è questo personaggio con un ciuffo bianco i capelli neri con un occhio che si vede che gli hanno usato il Dodge in maniera massiccia gli hanno messo un flare e poi sui capelli in giro c'è lo spazio costellazioni insomma siamo nello spazio questo è chiaro l'abbiamo ribadito con almeno sette concetti in questa copertina c'è la nebulosa ci sono le costellazioni ok è chiaro scusatemi ho dovuto prendere un appoggino perché continuavo a guardare di lato ho messo il computer davanti allora altra cosa il font non mi fa impazzire perché lo trovo un po' a caso e vi spiego perché con queste sorte di linee circolari secondo me richiama un po' un font anni 70 anche se non ha diciamo le forme morbide che avevano i font un po' più old school del genere però mi sa molto da disco più che da spazio personalmente queste sono le mie opinioni personali che hanno valenza zero se a voi piace moltissimo e in più non mi piace che ci sia sia il flare nell'occhio di Auri sia il flare sopra la O due cioè uno bastava cioè tranquilli che uno bastava c'era anche abbastanza contrasto per non metterlo non so sono sempre un po' interdetta non è male ma non è neanche la più bella copertina di Jay Kristoff del quale riparleremo anche più tardi altro titolo che io attendo molto si chiama We Hunt the Flame di Afzal Faisal che è ambientato ovviamente in Oriente c'è tutta la fascinazione araba ma non siamo qui per la trama anche perché non ve la dico perché dovrei fare le ricerche sul Google e non ne voglia in questo momento siamo qui per la copertina in questa copertina abbiamo un'impostazione come se noi stessimo guardando da uno spioncino è proprio un'impostazione un po' voglieristica come se ci fosse quest'arco attorno tutto scuro e vediamo quella che io presumo sia la nostra protagonista arco e freccia in mano colori molto scuri in primo piano e di sfondo questa sorta di costruzione che non so neanche definire che sta in cima ad una montagna poi c'è la luna classica e tipica del mondo arabo insomma dell'Islam e tutti questi colori che richiamano la notte allora la cosa che non mi fa impazzire in questo caso è il font perché lo trovo cioè mi trovo molto bella l'illustrazione ad esempio mi piace molto la trovo giusta poi secondo me manca l'elemento del flame perché si chiama we hunt flame in questo caso abbiamo tutto molto scuro molto notte e non c'è l'elemento della fiamma e qua ci poteva stare il richiamo alla fiamma perché non lo vedo forse sono io che non lo vedo e magari sono scema tutto plausibile ma secondo me il font è a volte perché ha queste grazie molto sottili e si perde un po' nell'illustrazione è molto barocco ha tante cose è doppiato è un po' gotico ma poi non è solo gotico secondo me c'è troppa roba a livello di font potevano usare un font che richiamasse magari il mondo arabo con delle geometrie con alcuni giochi di intersezione tra le lettere ma non avrei usato questo non lo so lo trovo troppo esagerato su un'illustrazione che è già molto molto complessa però la copertina devo dire che mi piace cioè in generale mi piace stranamente questa ci può stare secondo me è una delle cose migliori che abbiamo visto in questi ultimi 10 minuti passiamo a giugno e a giugno esce un libro che io non sto attendendo nel senso che il primo è stato così terribile che l'ho venduto appena finito perché non si può scrivere un libro così brutto ma la copertina di quel libro era una delle cose più belle mai viste un'illustrazione di Charlie Bowater come anche in questo caso e sto parlando di An Enchantment of Ravens di Margaret Rogerson comunque copertina devastante bellissima e ora sta finalmente uscendo forse qualcuno lo attendeva io ho sentito solo pareri super negativi il seguito che si chiama Sorcery of Thorns che ormai c'è siamo sempre lì Ravens Thorns Sorcery cioè basta vi prego trovate un qualcosa di un po' più originale la copertina in questo caso sempre di Charlie Bowater l'illustrazione è bellissima cioè la cito solo perché l'illustrazione è bellissima e secondo me è impostata molto bene per una copertina c'è la protagonista da un lato che regge una spada quindi immagino che abbia capito che deve fare delle cose la protagonista cosina come la chiamerebbe Matteo Fumagalli viene circondata da questi rovi da questi arzigogoli che comunque richiamano i rovi sia in grafico che proprio quelli fissi e mi piace molto anche i colori sono tutti tra il blu e il verde con una punta di magenta molto molto bello e anche il font secondo me è abbastanza corretto si inserisce bene è molto ben visibile e ha questi richiami agli arzigogoli che richiamano le spine e i rovi bellissime copertine delle copertine sprecate quelle che mi fanno rabbia bellissime veramente molto bello un lavoro molto accurato buttato al vento per un libro scritto malissimo allora questa ve la cito perché non se la sarà fumata nessuno ma secondo me è un libro che potrebbe rivelarsi anche molto interessante che si chiama The Language of Fire di Stephanie Hemphill che ha anche vinto il Prince Honor Prize e quindi insomma secondo me è un titolo che io da un po' di mesi mi sono segnata e spero di riuscire a leggerlo è un retelling della storia retelling è una storia reimmaginata di Giovanna d'Arco e anche per questo è abbastanza originale la copertina si sviluppa su tre colori anzi quattro se contiamo il nero e per questo secondo me è molto interessante come lavora è esattamente l'espressione di quando io dico che la grafica si interseca molto bene con la lavorazione del font l'illustrazione collabora con il font per creare un qualcosa di molto ben pensato e bilanciato in questo caso noi abbiamo tre strati su cui vedere l'immagine abbiamo chiaramente il nero che sottolinea abbiamo il nome dell'autore il titolo la protagonista che è centrale e la cornice che racchiude tutto e poi abbiamo un altro livello questo gradiente dal giallo al magenta che è utilizzato per tutti gli elementi grafici quindi tutta l'illustrazione di contorno che sta ovviamente di fianco che accompagna gli elementi che prima erano saltati all'occhio con il nero e poi questo fondo blu petrolio abbastanza tenue un po' chiaro per me è bellissima ve lo giuro per me è bellissima questo è il book porn questo è quando io parlo di book porn vuol dire che è un'impostazione fatta come la grafica comanda non avrei detto che schifo no bella poi giusta l'illustrazione forse non è la più originale più bella del secolo però devo dire che con questa combinazione sia di colori che di stratificazione che proprio anche di rilevanza delle informazioni perché ci sono alcune che sono il nero che proprio sbam sono là in alto poi c'è la parte colorata e poi c'è il fondo che fa emergere tutti gli altri elementi brava chiunque sia il grafico bravo poi arriviamo a un titolo che io punto soprattutto per la copertina perché mi piace la copertina e in questo caso il titolo è The Storm Crow di Cullen Josephson che so già ma lo vedo già a lontano chilometri che sarà deludente ma la copertina è bellissima c'è questa protagonista dalla pelle un po' scura con l'occhio super ghiaccio anche qua basta basta mettete le persone non con l'occhio azzurro in ogni caso abbiamo questa protagonista un po' nascosta tutta da ali becco e piume di corvi per me a livello grafico l'impostazione dell'immagine è bellissima proprio questi toni di blu molto scuri per me è reso molto bene è molto corretto cioè genere comunque fantasy young adult quindi ragazzi prendetele con le pinze questo che sto dicendo si riferisce soprattutto a questo genere per tanti altri parliamo in maniera totalmente diversa il font vediamo la questione font il font è super simile a quello di Six of Crows mancano alcuni arzigogoli ma mi sembra anche più simile a quello di The Siren o The Storm o qualcosa vabbè ma non mi ricordo ma non mi interessa neanche anche se qua c'è una lavorazione un po' migliore io avrei tenuto forse il font un pelo più semplice quasi un bodoni o comunque un qualcosa revista una cosa del genere perché secondo me sarebbe stato più forte perché già avevi sto purri sotto non c'avevi bisogno di un font così barocco però comunque nel complesso mi piace ed è il motivo per cui io forse leggerò questo libro pensate come funziona il marketing su di me vengo fregata dai miei stessi colleghi vabbè e poi a settembre finalmente esce Dark Zone e in questo caso io le commenterò entrambe perché secondo me entrambe meritano di essere commentate allora partiamo dall'edizione US che è quella che io non ho e che comprerò prima o poi perché insomma vediamo come va a finire questo terzo libro perché io ho grandi aspettative dal terzo il terzo deve chiudermi il cerchio quei dubbi che io avevo avuto nei primi due me li deve risolvere perché è una serie che a me è piaciuta tantissimo uscirà anche in Italia quindi siamo tutti contenti Dark Zone allora copertina americana vi parto dicendo che questa è la mia illustrazione preferita delle tre che sono uscite americana le trovo molto belle molto giuste questo gioco su tre colori e basta bianco nero no quattro colori e basta scusatemi bianco nero oro e rosso cosa che accomuna tutti per me è molto bella cioè mia in primo piano ci sono i suoi demoni che l'accompagnano c'è proprio un bilanciamento tra sopra e sotto come se fosse una clessidra in fondo lo è spoiler non è spoiler ma più o meno lo sarà e boh mi piace proprio tanto proprio una bella illustrazione il font secondo me dell'edizione US è un po' too much però in questo caso visto che in questo caso è pugnala 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 sangue ovunque chi più ne ha più ne metta ci sta non la puniremo per questa molto bella però arriviamo a quella UK che è l'edizione che ho io e in questo caso io vi dirò una cosa tra tutte e tre è quella che mi piace meno nel senso che secondo me ci stava mettere Mr. Kindly cioè mettere il gatto in questa perfettamente giusto infatti la parte del gatto è la mia parte preferita però abbiamo una serie di illustrazioni inizio anni 90 tatuaggi brutti che no quella è proprio una parte che non capisco non si inserisce delle linee molto sottili i dettagli che si perdono non lo so poi anche nelle c'è un sacco di zavagli che poi se li andate a vedere tutti sono tutte robe che prima o poi torneranno nel libro io me ne rendo conto ma rispetto agli altri due mi piace meno mi dispiace perché invece il gatto anche col musino col movimento che si appoggia qua sopra il giallo sono veramente bellissimi e io preferisco molto di più questo tipo di impostazione che è un po' più libera anche perché ha già un'illustrazione molto ricca c'è questo bianco da dove emerge il colore che in questo caso è il giallo essendo un dark tone e poi questo font molto pulito ma con un piccolo serif praticamente una piccola grazia all'interno di alcune lettere che secondo me lo rende molto fine ma molto molto aggraziato molto bello cioè lo trovo sempre molto giusto e poi c'è sempre la frasetta when all is blood blood is all e shbem cioè capisci subito dove sei in questa cosa qua mi dispiace che sia quello che mi piace meno perché comunque nei primi due abbiamo avuto due illustrazioni devastanti bellissime questa mi piace un po' meno ma ripeto che mi piace molto il gatto ma basta e poi amici arriviamo sempre a settembre dove uscirà anche wayward son il seguito di carry on di rainbow rowel e io penso di essere stata l'unica che non è stata entusiasmata di questa uscita non lo so io continuo a vedere carry on come una cosa a sé una cosa carina una pillola che ci è stata data e lì deve stare è qualcosa che ci rende contente non c'era bisogno di andare avanti invece siamo voluti andare avanti sono l'unica che lo pensa sì sarete tutti felici ma lo leggerò anche io ovviamente figuratevi se lascio Buzz e Simon in un angolo non si fa però è uscita la copertina americana io ho l'edizione ovviamente non americana però quella con l'illustrazione di Kevin Wanda se non sto sbagliando però comunque in questo caso abbiamo proprio rainbow rowel in nero il fondo sempre giallo e azzurro che richiama anche la vecchia copertina e i nostri due protagonisti belloni in primo piano con questa illustrazione qua e allora secondo me Buzz sembra che stia per vomitare in copertina c'è questa cosa che secondo me tutto bene non è e Simon non riesco a capire Simon guardano tutti e due insomma in là preso benissimo super bullo non mi sembra cioè non lo so non mi fa impazzire secondo me è impostata molto bene perché è comunque questo gioco tra tra il font il fondo che è tutto molto ricco l'illustrazione che è tutta molto ricca ma visto che ci avevano messo troppa roba e questo secondo me è proprio evidente e poi perché i pantaloni di Simon e poi perché i pantaloni di Simon sono sicuramente scuri ci hanno dovuto mettere un gradiente rossiccio arancioncino per far leggere la scritta Wayward Song non lo so perché di questa scelta io spero di vedere la UK perché sono un po' curiosa ma poi arriviamo ad ottobre e cosa esce ad ottobre? esce 9th House che allora se questa cosa che se Libardugo mi delude per 9th House io giuro che non la supero in questo momento ve lo dico ma siamo qui per parlare della copertina e in questo caso sono uscite due edizioni sia la UK che la US io vi parlo della prima perché ha solo qualcosina di differente cioè ha il colore di differente rispetto alla UK e anche la posizione del serpente in questo caso noi abbiamo una copertina prevalentemente font abbiamo 9th House Libardugo spiazzati con questo grigio tipo 10% su fondo nero e già sbam io io ero già venduta così a me piacciono molto questo tipo di copertine ve lo giuro e poi c'è questo serpente sinuoso che si infiltra tra le varie lettere io ero venduta io ero già venduta per questo cioè per me è bellissima non ci posso fare nulla è esattamente il tipo di copertina che a me piace dove prevale la grafica prevale l'uso del font rispetto all'illustrazione l'illustrazione c'è è molto prepotente se ci guardate bene però è bellissima personalmente la trovo di un'eleganza molto molto rara se qualcuno lo pubblicherà mai in Italia e osa cambiare la copertina io vi vengo a trovare a casa ve lo dico si nella copertina UK a parte che ci hanno dovuto per forza mettere the number one best selling author che basta e poi in questo caso il serpente è invertito punta verso l'alto il font è leggermente meno lavorato ed è bianco non è più grigio leggero quindi e in più c'è questo serpente che è colorato invece di essere io preferisco la prima versione anche se trovo molto giusto anche questa a ottobre esce anche The Beautiful di René Adie che è la sua nuova serie e in questo caso penso sia un retelling della bella e la bestie perché ne avevamo tutti bisogno ne abbiamo visti pochi mi spiace perché René Adie secondo me è molto interessante almeno The Rough and the Dawn a me è piaciuto molto in questo caso abbiamo una copertina basic proprio basic un po' twilight un po' too much twilight in my opinion abbiamo questo font bellino arzigogolato molto poco lavorato secondo me su fondo nero dove abbiamo sta coppa che è riversa dei petali di rosa non lo so la trovo un po' copertina di romanzo fanfiction sinceramente di twilight non mi fa impazzire poi capisco perché ci sta l'uso di bianco, nero e rosso sono cose che io di solito sostengo molto perché sono i miei tre colori preferiti due dei quali non sono colori però nel loro accostarsi a livello grafico sono sempre molto potenti in questo caso è un po' poveranza secondo me e ripeto fondo nero così potente con un'illustrazione fotografica povera fa twilight non c'è nient'altro da dire basta passiamo a novembre che ci vedrà tutti contenti almeno io sono sicuramente contenta perché esce il nuovo libro di Kirsten White che sapete che io amo tantissimo ovvero The Ginevere Deception ovvero l'inganno di Ginevra quella stronza perché lo sappiamo tutti che Ginevra è una stronza detto ciò è diciamo una storia ambientata nel ciclo arturiano quindi siamo tutti carichissimi in più la Kirsten è proprio brava quindi che dirvi io sono contenta sono sempre contenta poi mi meraviglio perché scrive veramente tanto cioè è di qualità abbastanza alta quindi sono contenta anche se devo ancora leggere Slayer ma non siamo qui per parlare delle mie lacune siamo qui per commentare la copertina e quindi abbiamo una base di illustrazione che si fonda sui toni del blu ma poi viene intervallato dall'oro oro comunque giallo immagino che nell'edizione quella da Ricchi sarà in oro spero e anche in rilievo perché se no cioè sarebbe un ottimo prodotto a livello proprio commerciale detto ciò l'illustrazione ci mostra questa nostra eroina un po' nascosta dai riccioli che volano al vento con tutte queste foglioline che sarà sicuramente quella stronza di Ginevra scusate me lo dirò spesso questa cosa di notte chiaramente perché è buio perché il blu rappresenta il buio eccetera eccetera e poi in fondo ci sono queste foglioline d'oro e appena sopra The Ginevra Deception che nessuno riuscirà a pronunciare neanche io riesco a pronunciare Ginevra perché credo che derivi dal francese e quindi in inglese non lo so dire mi piace tutto mi piace molto anche l'illustrazione mi piace anche la combinazione dei colori rende molto bene e ripeto se facessero un lavoro anche di cartotecnica verrebbe fuori una roba paurosa cioè se fai già quelli in rilievo hai già vinto non mi piace il font cioè il font con scritto The Ginevra Piccolino Deception Grande in questo bastoni questo font bastoni che non è nemmeno abbastanza cicciotto buttato lì e sotto con il fondo di fogliame mi sembra la cosa più debole di tutta la copertina mi dispiace anche perché il font usato sopra per scrivere Kirsten White prima non è un bastoni ma è un serif e io non riesco a capire la scelta sinceramente potevano mettere lo stesso font magari anche se forse non sarebbe stata la cosa più corretta o comunque mettere un bastoni un po' più solido almeno io avrei fatto un po' più bold perché così e poi boh non so non mi rende il fatto che Ginevere sia più piccolo di Deception so che poi non sapevano dove mettere sto de mi rendo conto però è l'unica cosa che non mi piace il resto secondo me l'illustrazione è molto bella molto molto interessante e insomma speriamo bene perché la Kirsten non delude quasi mai oh io questa ve la cito questo non era nei miei progetti ma appena ho cercato le varie copertine mi sono imbattuta in questa che esce anche sta novembre ed è entrata automaticamente nella BATBR perché è esattamente quello che Tiffany vuole nelle copertine quando vi dicevo prima grafica e font che interagiscono tra di loro mi riferivo a questo quando c'è l'illustrazione che si combina con la parte di impostazione grafica io penso a questo sto cercando tra l'altro di rendere tutto molto comprensibile per chi non è del mestiere quindi se c'è qualcosa che non vi è chiaro ditemelo scrivetemelo sotto in questo caso sto parlando di Winterwood di She and Shaw che io non conoscevo non so neanche chi sia non so neanche di cosa parla è addirittura un best ah è il best selling author di Wicked Deep l'ho appena scoperto molto male quindi sarà una delusione totale perché Wicked Deep io non l'ho letto perché ho letto solo delle recensioni negative nessuno che ne parlasse bene e quindi ok però devo dire che il grafico che fa le copertine della Ed Shaw ha vinto tutto cioè voglio assumerlo perché è veramente bravo in questo caso abbiamo il font molto leggibile il titolo che è bello evidente nello stesso font leggiamo She and Shaw che è il nome dell'autrice un po' più piccolo quindi anche a livello gerarchico è leggermente sotto il titolo stagliato al centro abbiamo queste due lune questi due questi due spicchi di luna perfettamente centrali che danno la botta di colore oro su fondo nero e poi c'è tutta l'illustrazione che ricorda chiaramente i rami degli alberi che circonda tutto per me è bellissima è proprio bellissima c'è esattamente lo stesso bilanciamento tra fondo nero e parte grafica che emerge se ci fate caso i toni sono solo tra l'azzurrino e il bianco ghiaccio e poi c'è questo giallo che ci sono negli spicchi di luna per me è bellissimo io l'avrei comprato se non fosse che ho letto il nome dell'autore l'avrei comprato esce poi uno dei titoli che io non dico che lo attendo come si attende il messia ma di più perché dovrei credere nel messia per attenderlo così tanto e in questo caso stiamo parlando di The Starless Sea di Erin Morgenstern che non ci dona nulla dai tempi di Night Circus e quindi ok che cosa stiamo parlando in questo caso io non ho voluto nemmeno leggere la Sinossi perché non mi interessa non è quello il punto se no ti distrai è un po' come Night Circus se leggi la Sinossi pensi ad altre cose devi entrare un po' così a scatola chiusa in questo caso la scatola chiusa ce la dà la copertina vediamo vediamo una serie di nastri su un fondo color catrame quindi è un nero grigiastro delle chiavi molto elaborate tutte diverse tra di loro quindi questi saranno tutti indizi su quello che ci sarà dentro il libro un filo di perle e tutti questi nastri che si attorcigliano attorno alle chiavi e formano tutte queste se continuo a farlo così con le mani non è che rendo di più l'idea Tiffany Boy di un treno e comunque insomma ci sono tutti questi nastri che formano tutti questi arzigogoli che si attorcigliano attorno alle chiavi e poi il font in mezzo il font è una roba brutta che più brutta era difficile farla proprio brutta 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 poi con questo de in corsivo starle si con un font graziato brutto e vecchio cioè ok poi the author of night circles buttato lì a caso no cioè l'illustrazione non mi fa impazzire però da sola con un bel font e se fosse anche continuata in basso avrebbe fatto tipo da cornice mi sarebbe piaciuta moltissimo non mi fa impazzire perché hanno usato i font a cazzo di cane cioè questo è evidente lì era mettici sopra dei font boh l'hanno fatto se no non si spiega cioè non si spiega questa cosa poi c'è la novel la è ok e manco è allineato con la n author of buttato lì e manco è allineato con la e decidetevi cioè no poi arrivo alla mia amata Cassandra Clare scherzo con chain of gold che anche questo esce a novembre che non so dirvi cosa sia ah è la serie quella per adulti non lo so vabbè non mi interessa tanto non lo leggo e in questo caso però parliamo di copertine devo dire che secondo me anche se non è il mio genere di copertine preferito perché mi sanno tutte da videogiochi di assassin's creed episodio 25 però Cassandra Clare ha delle belle copertine tranne in Italia ovviamente in Italia sono forse il più grosso pugno in un occhio che ci hanno dato dall'editoria italiana però chain of gold mi piace abbastanza non mi piace tanto quanto mi piaceva Lady Midnight e quanto secondo me era bello Queen of Air and Darkness perché sono veramente due copertine bellissime peccato che c'è scritto dentro la roba vabbè ma non siamo qui per questo la copertina di chain of gold secondo me è altrettanto bella c'è questo movimento di capello così c'è la dama ci sta richiamo ovviamente tantissimo la serie di Clockwork Prince e compagnia bella d'altronde siamo sempre lì non è che la Cassandra Clare scrive altro smetterò di fare battute ve lo giuro però io avrei messo un fondo più scuro perché così poteva risaltare molto di più sia il vestito che il colore di capelli perché in questo caso è tutto molto si perde tantissimo ha veramente un problema forse di addirittura faccio fatica a leggere Hours e Book One perché è tutto più o meno giallino beggiolino e si confonde tra lo sfondo il vestito e la scritta cioè è tutto un po' troppo piallato però devo dire che la copertina è molto bella l'artista che fa queste cose qua sa quello che sta facendo mi piace anche che lo sfondo abbia un richiamo a qualcosa ma non sia eccessivamente ricco perché così emerge molto la figura il font poi è il solito che usa quindi questo in questo caso lo trovo super giusto perché è molto corretto anzi visto che siamo sempre all'interno dello stesso mondo una certa coerenza e niente come sempre brava Cassandra perché non sai scrivere ma almeno sai fare le copertine belle in ultimo chiudiamo con Tomia Deyemi visto che l'uscita di Children of Vice and Virtue no scusate Children of Virtue and Vengeance è stata spostata a fine anno allora la copertina presa da sola è bellissima cioè non si può dire nulla questa illustrazione è bellissima poi c'è questa gradiente che lo fanno i capelli e anche la luce che proviene da sotto la protagonista dal bianco al nero completo boh per me è bellissima mi ricorda molto l'illustrazione di and I darken and now I rise quelle che ho io per me sono molto belle è uno stile che a me piace molto poi secondo me rende tanto 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 in una copertina e poi c'è questo sbrodolo di titolo perché ovviamente se non abbiamo dei titoli di una risonanza pazzesca noi non stiamo bene e però 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 c'è un però cioè questa copertina per me sarebbe la copertina della vita se se il libro prima non avesse questa illustrazione che è un po' come mangiare le cozze nel latte freddo non lo vedo solo io cioè lo vedete tutti che non c'entra un cazzo non so secondo me lei ha delle bellissime copertine prese anche singolarmente perché anche questa è una copertina bellissima ripeto non c'entra niente non è proprio senso che siano messe lì boh non lo so non riesco a capire il perché di questa scelta secondo me preso dal primo volume eri fatto in questo caso anche perché prendevi lo stesso soggetto gli mettevi i capelli in alto così era uguale in questo caso l'avresti dovuta fare con un'illustrazione di impostazione molto diversa molto più grafica non so perché però resa singolarmente bellissima innegabile in una serie non c'entra un cazzo diciamolo chiaramente bene io ho finito perché direi che ne ho dette abbastanza spero di essere stata chiara ho cercato molto di semplificare parlare proprio di elementi grafici fotografici illustrazione e font font ovviamente è il carattere per chi non lo sapesse mi è venuto in mente adesso ah e poi questione bastoni e grazie quando io parlo di font bastoni e font invece graziati significa che il font bastoni è quello che non ha i ricciolini in fondo per esempio questo è un font graziato perché ha tutti questi robini qua no invece un font bastoni ad esempio è questo di moxi perché vedete che non ha i ricciolini basta il mio tutorial sulla grafica direi che finisce qua perché poi io sono quella che ne sa meno di tutti di grafica però detto ciò io spero che il video vi sia risultato interessante quanto meno e spero di avervi tenuto compagnia come sempre se avete domande o qualsiasi cosa mi raccomando scrivete giù e di tutti i titoli che ho citato trovate anche tutti i link ad amazon insomma se volete anche puntarli nella vostra wish list niente io direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao